Ciao ragazze, sono qui con i capelli bagnati perché, eh, perché direte, voi te lo dovreste sapere se mi seguite da un po', proviamo insieme oggi questa. Devo rifarmi il colore e volevo fare tutta la testa, quindi ecco perché lo sto facendo io e non mia madre, perché se ne devo fare una cosa un po' più particolare, nel senso tipo solo le punte, non farmi vedere uno stacconetto, me lo fa mamma perché io non sono in grano. Volevo riprendere lo stesso della Stargazer, il coral blue, ma non c'era, e quindi ho detto, beh, proviamo qualcos'altro, ho preso questa della Crazy Color, che è il Capri Blue, bellissimo nome, è semi permanente, è il color cream, e niente, quindi vediamo un po' come viene, io appunto lo passerò tutta la testa, ma lascerò come al solito la parte questa qui rasata, che credo di farmi ricrescere perché ho trovato una foto su Facebook di una rasatura fatta dietro con dei disegni troppo carini, e quindi vorrei fare quella più avanti, quindi adesso lascio crescere questa e poi ci penso. Ho tolto gli anelli, vado a mettermi i guantini, perché se no, le unghie, ah ho rifatto anche le unghie, le avete viste su Instagram, se volete sta qui sotto, comunque sempre Giorgio 91, e le ho fatte una specie di blu viola, dipende dalla luce, e poi l'anulare come al solito glitterato su Lilla, mi piacciono tantissimo, le ho accorciate un po' e sempre un pochino a mandorla, perché erano troppo lunghe e non riuscivo a fare nulla, 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 mi piacciono sempre male, quindi ho fatto, erano belle lunghe, anche perché erano quasi due mesi, che non le ho fatto, le facevo, e mi sono detto, no, no, accorciamole un po' perché io non so in grado di poter portare le unghie lunghe, proprio scomode, cioè per qualsiasi cosa, per lavare i piatti, non mi ci trovo bene, maglietta da combattimento che si confonde con i capelli, ho preparato la mia tazza professional di ceramica, è un pennello, ma tanto, per quanto sono brava a fare i capelli, farò con le mani, tipo così, allora vado a separare intanto un ciocche, e cerchiamo di fare una cosa più possibile omogenea, perché appunto la voglio passare un po' dappertutto, anche perché io sopra, la parte più alta della testa, sì ce l'ho decolorata, però vedete, è scura comunque, quindi io volevo semplicemente che diventasse più scura, ecco, che tendesse un pochino più all'oscuro, piuttosto che a questo colore chiaro, e ok, intanto ne metto un po', questo è il colore, ve lo faccio vedere dalla ciotolina, sembra viola, ma pure quello della Stargazer era uguale, mi sono messa tipo un asciugamano addosso, tanto farò un macello, tolgo il telefono perché se mi si macchia potrei piangere, metto lo specchio davanti e iniziamo, sono diventati praticamente verdi ormai i capelli, e vediamo un po' che esce fuori, di solito io la Stargazer la faccio invece con i capelli asciutti, anche se lì c'è scritto comunque di farla con i capelli bagnati, però mi trovavo meglio a farla con i capelli asciutti, non mi chiedete perché, ma tanto io lo so che con il pennello, io non so capace, è inutile che se provo a fare la brava ragazza, e a fare le cose bene, faccio così, ciocca per ciocca, un po' piano piano, naturalmente io velocezzerò il video perché se no siamo qua fino a domani, il telefono di casa, non li ho mai provati questi crazy color, poi ce ne sono talmente tanti di colori ragazze che veramente, se uno potrebbe impazzire, se andate lì non sapete che colore fare, impazzite a guardarli tutti, non mi metto l'asciugano perché mi dà fastidio, ecco, naturalmente voi in caso mettetevi un asciugano sulle spalle, sicuramente se vi fate aiutare fate anche prima perché è più semplice, io mi appoggio qui, tanto poi mi lavo, ok, di altro mi troverò il collo di colori non molto normali, ecco già l'orecchio l'ho fatto entrare blu, sembra più blu di quell'altro, del coral blu, sicuramente, però insomma vediamo un po', ero curiosa anche di cambiare un po', ho iniziato con quelle della Elgon, quelle rosse, se mi ricordo magari vi metto un po' di video sui vari colori di capelli con queste tinte semipermanenti, ma che poi non sono neanche tinte, ve le metto qui nel video così se volete vedere anche il rosso, che magari è un colore che più persone fanno, lo possono vedere, perché veramente se voi fate la tinta una volta e poi passate, adesso magari non il blu, però magari se fate il rosso, queste, l'attaccatura non la coprono, però vanno a ravvivare molto il colore, quindi ecco magari fate, riprendete solamente l'attaccatura se la volete tutta rossa e poi passate la, questa tinta solo su, sulla lunghezza, così vi si ravviva tantissimo il rosso, veramente, io adesso faccio un macello, perché tipo qua mi è di coloro sicuro, e sulla confezione c'è scritto di tenerelo tra i 15 e i 30 minuti, io penso che lo terrò 30 minuti perché voglio che il colore prenda molto molto bene, voglio che si veda, da una pettina, perché sono un po' ingrifati questi capelli, questa spazzola non mi convince, questa è quella di Tiger, che ho pagato 3 euro, ma sinceramente non mi fa impazzire, la preferisco sui capelli asciutti, quindi tipo la mattina quando mi sveglio e mi devo pettinare va bene, ma quando sui capelli bagnati mi dà l'impressione che non me li spazzoli bene, ecco, che non mi scioglie i nodi bene, eccetera, quindi penso che lo userò, metterò questa da usare sotto la doccia, oh mamma mia che casino, siamo in tre dentro casa e riusciamo a creare un casino? e niente ragazzi, io continuo così, quindi adesso velocizzerò un po' il video, vi farò vedere tutto perché se no veramente vi annoiate a morte, e poi che no finito ci rivediamo, e poi ci rivediamo, ok, è stata una lotta, mi sono fatta anche la parte rasata blu, questi sono i guanti, che erano bianchi, l'ho tirata ovunque, ovunque, aspettate che pulisco bene la ciotola, così non butto via niente, praticamente l'ho usata, l'ho usata tutta, e boh, speriamo bene, incrociamo le dita, incrociate le dita con me perché se no, è un casino, perché non hai dita, beh ti sei fatto rosso, viene male, viene un po' ramato, no, è un blu, è un blu quindi, tecnicamente, adesso cerco di, guarda, no, meno male che mi ero messa in asciugamano, questo è quello, questa è diventata blu, per me una salvitina spruccante, vediamo se si toglie un po', giusto, per non sembrare più ridicola di quello che già sono, ok, si toglie un po', poi tanto dopo devo sciacquare i capelli, si sente che va via, il neo è diventato, ah no, un neo, oddio, perché oddio, è un neo qua, pensavo fosse quello che era diventato blu, invece no, poi dopo mi pulisco bene, tanto giusto per togliere l'eccesso, e niente ragazzi, quindi adesso sono le sette, non si vedrà mai, sono le sette, quindi metto la sveglia alle sette e mezza, le sciacquo, ceno, le sciacquo, le sciacquo i capelli, ceno, e poi torno da voi, e vediamo un pochino che è venuto fuori, incrociate le dita, eccoci qui, e sì, voi mi avete abbandonato, ieri sera che avevo messo il colore, e poi ho aspettato mezz'ora, lo sono andata a sciacquare con tanta tanta acqua, se vi posso dare un consiglio, mettetevi i guanti anche per sciacquare i capelli, perché con gli altri che ho usato, tipo la Stargazer, non mi macchiavo le mani mentre li risciacquavo, perché comunque le mani le muovi, lei ce le hai così stampate, che ti rimane il colore, avevo questa mano, perché comunque stai tenevo la doccia al testo in giù, e questa mano era completamente verde, e credo abbia ancora dei riflessi verdognoli, e niente, quindi questo è il risultato, mi piacciono tantissimo, sono bellissimi, e naturalmente non è venuto un colore omogeneo, ma neanche lo volevo, perché io qui avevo fatto una tinta schiarente, quindi l'attaccatura non ha preso, a parte mi sono macchiata un po' la cute, però insomma questo al prossimo loggio andrà via, vedete anche qui, e mi ero sporcata anche la parte rasata, ma essendo il colore dei miei capelli naturali, praticamente vedete, non ha preso quello che vedete qua azzurro, perché ho la cute un po' macchiata dal colore, quindi sul colore naturale praticamente non prende, infatti l'attaccatura non ha preso, ha preso da dove io l'avevo schiariti, quindi più li avete chiari, più prende bene, però mi piace tantissimo, perché appunto, tipo le punte sono proprio azzurre, secondo me, non so, voi le vedrete un pochino più scure, qui dove avevo solamente la tinta schiarente, sono mezze verdognole, e poi ho questi ciuffi, che io non so se voi vedete, qui ho dei ciuffi in mezzo, dove io ho fatto delle mesh più chiare, che sono azzurre, ecco tipo qui, ho proprio un ciuffo azzurro, sono bellissimi, mi piacciono tantissimo, guardate, vedete anche qui, ci sono, vedete, non è un colore piatto, è abbastanza movimentato, niente, quindi, mi piacciono tantissimo, veramente, poi insomma, vedrete anche come evolverà il colore, nel corso dei giorni, in altri video, per un po' di video, li vedrete belli accessi, perché li sto registrando un po' tutti insieme, perché oggi mi sento ispirata, e quindi, niente, vorrei caricare un po' di video, insomma, io, avrete già visto, se niente, il video sul mascara, poi ho registrato un mi preparo con voi, vorrei registrare un outfit, e devo registrare i top flop del mese passato, quindi di novembre, e quindi, insomma, questi giorni un po' vi tengo compagnia, spero vi faccia piacere, fatemi sapere cosa ne pensate di questa tinta, se l'avete provata anche voi, come vi siete trovati, insomma, tutto quanto qui sotto, e niente, io vi mando un bacio, e al prossimo video.